San Marco è una delle figure centrali della nostra fede, ci ha lasciato il Vangelo, dunque è uno di quei santi radicati nella nostra memoria. Qui nel paese di Ollastra questa festa è radicata nei secoli, viene associata anche a manifestazioni civili, a tutto quello che può essere il mondo anche degli animali, le sagre, il momento di incontro e anche di commercio. È un modo di unire due cose importanti, il momento della fede e il momento della comunità. Dunque credo che è una buona occasione anche per me di stare qui oggi, di incontrare la comunità in questo momento di festa. Grazie a tutti. Grazie a te, O Dio nostro Padre, che nell'acqua tua creatura ci hai aperto il grembo della vita. grazie a te per l'onda che irriga, il lavato che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra rinascita in Cristo tuo Figlio. Fa, O Signore, che ogni uomo possa sempre godere di questo refrigerio e conservando limpida e casta l'opera della creazione, veda in essa il riverbero della tua bontà e un invito costante alla purezza del corpo e dell'anima. per Cristo nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. Grazie a te. 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 Grazie a te.